Allora, buonasera, riprendiamo la nostra consueta appuntamento con le dirette, scusatevi sono sempre super 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 allergico, riprendiamo come sempre le nostre dirette, nel frattempo non riesco a capire se siamo in diretta sui nostri canali social, adesso ve lo dico subito, visualizza, siamo in diretta, tutto a posto, allora le nostre dirette, le zuppe economiche serali, faccio subito entrare Leopoldo Gasbarro, il curatore del sito di economia e finanza e non solo della sezione, allora Leopoldo parleremo di inflazione, intanto saluto subito i primi che sono arrivati, Monica, Veronica Santoro, Giuseppe Caputo, grazie a tutti quanti voi, io vi vorrei semplicemente dire una roba riguardo all'economia, una cosa semplice che capiamo tutti quanti noi, nel 2019, me lo sono segnato, il PIL italiano valeva tutto intero 1787 miliardi, era quanto produceva l'Italia, il che corrisponde ai redditi degli italiani nel 2019, in realtà venivamo da dieci anni di crescita inferiore al resto dell'Europa, l'anno scorso tutti quanti hanno detto crescita incredibile, la locomativa italiana sarà la guida dell'Europa, quanto siamo fichi, Ministro Brunetta che dice siamo un... quanto abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo fatto un bel risultato, ma dovete sapere che nel 2020 avevamo perso da 1787 miliardi, eravamo scesi a 1627, sentite questi numeri, 1787, 1627 nel 2020 per la chiusura del Covid e nel 2021 siamo ritornati a 1734, cioè nel 2021 siamo con un PIL ancora inferiore rispetto a quello del 2019, magrissima consolazione e nei primi tre mesi del 2022 in realtà il nostro PIL è andato in negativo, meno 0,2%, ciao Core e siccome Leopoldo Gasbarro che qua ci ha raccontato dell'aumento dei prezzi molto prima della guerra in Ucraina e dell'energia... Non avevo previsto la guerra Nicola, ma avevi previsto quello che succede? La cosa che mi fa girare le balle è che l'altra cosa che abbiamo previsto insieme e di quale vogliamo parlare questa sera è la cosiddetta inflazione, a te Leopoldo. E sull'inflazione Nicola io ti voglio dare una definizione che secondo me è carina perché guarda, l'inflazione ci dice qualcuno che è come il colesterolo, tu sai di poterla avere però normalmente non la vai a controllare, tutti sanno che avere il colesterolo alto fa male ma non si sa quanto faccia male, allo stesso modo l'inflazione è una sorta di pericolo subito di cui si ha una trascurabile consapevolezza, per cui capisci il concetto è proprio questo qui, noi dobbiamo assolutamente guardare qual è la situazione e cercare di capire come metterci una pezza, perché l'inflazione se non la controlliamo correttamente, non la valutiamo correttamente Nicola, va ad incidere sui nostri patrimoni. Io ho appena scritto un articolo che è uscito sul nostro sito in cui paragono l'inflazione ad un piccolo roditore, i nostri patrimoni ad una forma di formaggio, questo roditore va lì e si prende il 7% in questo momento mediamente all'anno, che tradotto in soldoni, se noi abbiamo un conto corrente con 50 mila euro mediamente dal punto di vista del deposito, il 7% di 50 mila euro sono 3.500 euro l'anno e se andiamo a scomputare dato per dato, questo è una roba che ci costa quasi 10 euro al giorno, quindi è qualcosa che dobbiamo tenere sotto controllo in maniera molto forte. In più, tu adesso stai già preparando la prossima videata, perché una cosa importante da far vedere alle persone, Nicola, è questa qui che ti faccio vedere adesso, perché se mi metti in onda, eccola qui, questa grafica, questa grafica ci fa vedere, questi sono dati di Eurostat, come è composta l'inflazione in questo momento, quali sono le aree di maggiore interesse? Naturalmente, il 45% abbondante è quasi tutto dettato dall'energia, dal costo dell'energia, come vedi il resto si tiene in un intorno del 3-4%, però è l'energia 45% che incide moltissimo. E su questa cosa dobbiamo ragionare su un aspetto, Nicola, che non tutti hanno lo stesso stile di vita, non tutti fanno le stesse cose. Se io e te facessimo due lavori diversi, uno magari è stabilmente in un ufficio, l'altro gira come una trottola, è normale che chi gira come una trottola usa un'energia maggiore dal punto di vista dei carburanti e così via, avrà un'inflazione personale che è molto più alta rispetto ad un altro che è statico in ufficio. Non è un dato uguale per tutti, perché è un dato che fa male a tutti, ma non è un dato uguale per tutti. Poi devo dire una cosa, il famoso carrello della spesa, io molte persone che conosco, quei prodotti non li hanno mai visti in vita loro, vedo per cui, poi dipende dallo stile di vita che uno fa, per cui se una persona va a mangiare in un ristorante tre stelle è diverso che se va a mangiare dalla trattoria sotto casa. Ogni cosa ha un suo riferimento, ma abbiamo visto quanto è forte l'incidenza dell'energia in questo caso. Allora io, tu lo sai, vado a spulciarmi sempre mille cose in giro anche per il lavoro che facciamo e sono andato sul sito dell'ABCE e sul sito dell'ABCE c'è una cosa simpaticissima che vorrei fare. Devo dire fantastica. Personal Inflation Calculator, cioè noi possiamo calcolare la nostra inflazione personale. Ci possiamo divertire a rispondere a quelle domande, vedi Nicola, è una struttura dove tu hai anche la finestra in alto rispetto a quel dove c'è scritto euro adesso, puoi andarti a scegliere il dato Italia. Quindi oltretutto i dati sono nazione per nazione e sono aggiornati da Eurostat, quindi più chiaro di così e più fedele di così non potremmo avere. Se tu guardi nella colonna di destra, l'ultima, ci fa vedere qual è l'incidenza di quelle voci mediamente. Però nella colonna, la seconda da destra, noi possiamo inserire la nostra media spese per quanto riguarda quelle voci che sono poi date sul lato di sinistra. Ci sono una serie di domande che naturalmente possono essere esplose addirittura. No Nicola, se tu entri nel quadratino a fianco ad ogni domanda, se qualcuno vuole avere dei dettagli un pochino più specifici, vedi food, beverage e tutto il resto, noi possiamo entrare. Allora, facciamo una cosa, visto che lo scettro del comando della regia ce l'hai tu, comincia a rispondere a quelle domande con il tuo stile di vita e vediamo che cosa viene fuori. Food, 30 euro al giorno per 30 giorni. Ah, non lo so quanto mai mi giuro, che te devo dire? 900. Allora, con questa roba noi stiamo andando a calcolare l'inflazione di una persona. Non alcoli che... 100. Ecco, per far più velocemente magari, Nic, chiudiamo le specifiche, rispondiamo direttamente alle 12 domande che sono alimenti... Alcoli, beverage e tabacco, zero. Sì, zero. Clothing, zero. Abbigliamento e calzature. Mille. Housing. Poi c'è il quarto, abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili. E lì, for in casa, keep my routine, health, salute, 200, transportation, 300, communication, 50, recreation and culture, 200, education, i miei figli, 200, restaurants e hotel. Sto traslocando, Nicola, il calcio mi costa 19 scatole di libri, per cui... 500. Vai, salute. Salute, già messo, 200, 100 di miscelanio. Personal inflation, mortacci loro, 11,4%. Quando ti viene, hai visto che differenza? Cioè, la media Italia è 6,8% e tu hai l'11%. Capisci che devi stare un pochino più attento, 11,4%. Vedete come in realtà quella che è una media di riferimento deve portarci ad analizzare molto meglio le cose che facciamo. E quindi anche in questo, se tu vai a vedere, se scorri nella dashboard dove c'era il dato della tua inflazione, non ti spaventare, Nicola, perché se hai una persona normale per pareggiare i conti con l'inflazione ci vuole un tasso di interesse del 6,8%, a te ci vuole un tasso di interesse dell'11,4% che sono cavo di amari. Però, nei due quadratini a fianco ai numeretti che sono usciti, allora, tanto per spiegare alla gente che ci sta seguendo, 6,8% è l'inflazione media in questo momento, cioè dati marzo del 2022. L'11,4% è quella che è uscita a te inserendo le tue abitudini di spesa. E guarda nel terzo riquadrino quanto incide, per quanto ti riguarda la parte energetica, ad esempio, sei sopra il 70%, mentre per la media tu viaggi tanto, aerei quello o quell'altro, per cui è normale che tu abbia un costo più alto. Però questo ci può aiutare anche ad educarci un pochino. Io parlavo con degli amici americani che mi dicevano, sai, noi eravamo abituati a lasciare i condizionatori, a proposito di condizionatori, visto che si parla tanto di condizionatori in questo periodo, noi andavamo in vacanze e lasciavamo il condizionatore acceso anche un mese, perché tanto quando tornavamo poi tornavamo la casa fresca. Questo non si può fare più, probabilmente, da adesso in poi. Dobbiamo stare molto più accorti rispetto a quello che sta succedendo e dobbiamo fare delle scelte diverse. Sul mercato stanno uscendo le scelte cose. Pierluigi Manfreda, è possibile avere il link? Assolutamente sì. Guardi, io dico a Pierluigi, basta andare, basta scrivere su Google, BCE inflazione, viene fuori tutta una serie di approfondimenti dal sito della BCE e trovi anche il calcolatore personale. Non c'è nulla che noi nascondiamo, anzi, siamo qui a dare informazioni, a fare cultura e a dare indicazioni su quello che sta succedendo e a trovare anche dei parametri. Questa roba è fantastica, Nick. Io per spiegare come, caspito, siamo arrivati dove siamo arrivati, questo è il più grosso ingorgo che c'è stato nella storia dell'automazione con le auto. Cina, 500 chilometri. Però io, perché utilizzo questa immagine? Perché questo ci fa capire che tutto quello che ha generato l'inflazione parte dal lockdown, parte da questo mega ingorgo del movimento che c'è stato su una mega autostrada di centomila corsieri di tutte le attività produttive del mondo. Le hanno bloccate per tre mesi. Alcune sono andate a bruciare le testate, le frizioni e compagnie cantante. Altri, per ripartire in mezzo a quel caos, Nicola, ci hanno messo un sacco di tempo, proprio mentre il mondo cominciava a richiedere, una volta riaperti i battenti, cominciava a richiedere tutta una serie di servizi, eravamo rimasti chiusi dentro, dateci un po' di roba da utilizzare, da comprare. In realtà, se vai alla slide successiva, qui ci fa vedere due parametri. I container, ne abbiamo parlato tante volte, Nicola, del costo del container. Siamo passati da mille dollari di noleggio a 29 mila. Adesso nella zona di Shanghai, dove c'è il porto che sta chiudendo di nuovo, quindi avremo altre problematiche da questo aspetto qui, i noleggi sono tornati intorno ai 13 mila, 14 mila dollari. Ma le navi che li portavano in porto, calcolate che i porti più grandi nel mondo sono quello di Shanghai e i due americani, i Long Beach e Los Angeles, prima le navi erano alla fonda in attesa per uno, due giorni, tre giorni nei casi pazzeschi. Dopo il lockdown siamo arrivati a 25-30 giorni e quindi c'è stata una serie di rialzi di costi che poi si sono scatenati a catena. Poi è arrivata la guerra. Io dico, Nicola, ma tu lo sapevi che l'Ucraina e la Russia erano la conca del mondo di un mare di cose così importanti? Sembra che arrivi tutto da lì, la ghisa, il litio. Per cui è veramente una situazione particolare che sta facendo alzare i prezzi e qui dobbiamo cominciare a capire quello che scrivevo nell'esempio dell'articolo di oggi che se l'anno scorso cominciavamo 0-0 tassi di interesse e inflazione, quindi non perdevamo, qui noi perdiamo in termini di potere d'acquisto mediamente il 7% all'anno. È come se ci avessero messo una tassa patrimoniale del 7% sui nostri patrimoni ed è con questa tassa, soprattutto per il fatto, Nicola, che ancora non hanno toccato i tassi di interesse ufficiali, che stanno ripagando il debito pubblico. Il debito pubblico è sceso di 54 miliardi nell'ultimo trimestre dello scorso anno e sicuramente scenderà di almeno altri 50-60 miliardi nel primo trimestre di quest'anno. Se continua così, noi riportiamo il rapporto tra debito e PIL, anche se il PIL, come giustamente hai detto tu, non sale, quindi dovrebbe essere quello ad aiutarci, dovrebbe riscendere in maniera importante. l'unica cosa è che questa roba la stiamo pagando noi. E quindi... Fantastico, Saverio. Il mio BCE Calculator dice che la mia inflazione negativa sono un monoco sempre di tiro. Non ci credo, lo voglio vedere. Senti, i mercati però, devo dire che dall'inizio dell'anno, hanno fatto segnare un rosso niente male. Cioè, i mercati sono piuttosto negativi, caro Leopoldo. Assolutamente sì, perché poi all'inizio... In realtà i mercati stanno diventando più selettivi, no? Ci sono delle aziende, abbiamo visto soprattutto quelle che gironzolano attorno al mondo delle armi, che stanno andando molto bene. Ma il resto, la tecnologia, e anche alcuni titoli importanti della tecnologia, hanno preso delle scopole non indifferenti. Tant'è vero che il Nasdaq è uno di quelli tra gli indici che ha perso di più in assoluto. Ma questo ci deve far capire di cui è poi quello che veramente preoccupa la stragrande maggioranza dei risparmiatori. Perché noi parliamo tante volte di borsa, parliamo tante volte di mercati finanziari, pensando che gli italiani abbiano messo un mare di soldi sulle azioni. E invece in Italia di soldi sulle azioni ce ne sono veramente in maniera marginale. La maggior parte degli italiani è sempre stata abituata a BOT, BTP e così via. E in questo segmento, proprio il segmento obbligazionario, sta subendo i crolli più forti dall'inizio dell'anno. Ma c'è un motivo e ci dovrebbe anche far riflettere che questo motivo potrebbe trasformarsi, Nicola, in un aspetto positivo. Perché che cosa succede? Come funziona un titolo obbligazionario? Che se il tasso scende, io in questo caso se il tasso sale, io quelli che comprerò successivamente avranno una situazione di tasso di interesse migliore di quelli del passato. Oggi diciamo che stiamo tornando ad una sorta di normalizzazione rispetto ad un mercato che fino a qualche tempo fa vedeva tassi negativi un po' dappertutto. Noi quante volte abbiamo detto, tu dicevi come faccio a spiegarlo a mia madre il tasso negativo, ti ricordi? Ecco, i tassi negativi stanno sparendo. Però è normale che chi ha comprato i BTP con i tassi molto bassi, prossimi allo zero, ha avuto e sta avendo dei problemi di valorizzazione di quei titoli lì. Soprattutto se sono all'interno dei fondi come un investimento, queste valorizzazioni si vedono molto di più. Però oggi rinvestire su quegli stessi asset, magari proprio per le uscitazioni che ci sono anche in formula PAC, non in tutto quanto assieme, può portare dei rendimenti nel medio periodo che prima non potevano esistere perché era tutto a zero. Anche se ora il vero rischio di cui tutti quanti gli esperti parlano è quello della stagflazione. Puoi spiegare ai nostri ascoltatori che cosa sia la stagflazione? Allora, la stagflazione è proprio quella che stiamo raccontando per certi versi. Noi abbiamo un'inflazione molto alta e una crescita che non c'è dei salari e delle capacità di spesa del cittadino, del risparmiatore. In questa modalità tu hai un costo che è quello che stavamo proprio valutando con il tuo 11%, ti porta ad una stagflazione maggiore rispetto a quella di qualsiasi altra persona. In questo caso si fa difficoltà ad intervenire dal punto di vista delle banche centrali perché anche le banche centrali si trovano in una condizione di difficoltà proprio nel poter decidere le politiche fiscali anche perché poi l'elemento finale della stagflazione è quello ancora peggiore della deflazione perché quando tu poi entri in questo vortice di instabilità negativa la gente che cosa fa? Finisce per fermarsi. Non immagina che i prezzi scendono sempre di più perché che cosa succede? Nel momento in cui oggi c'è tanta richiesta di prodotto il prezzo dei prodotti sale. Ma piano piano ci sarà sempre più gente che pagando sempre più costi alti si ritroverà a dover rinunciare a qualcosa. Uno dei titoli che per esempio è crollato di più noi ne parlavamo nelle scorse settimane è Netflix perché tanta gente dice io tolgo l'abbonamento a Netflix che è una delle cose superflue dentro casa evito di vedermi un film però risparmio quei 10 euro al mese quei 10 euro che abbiamo visto che mediamente su un conto da 50.000 euro rappresentano il costo quotidiano però capisci che questo tipo di situazione quando i prezzi poi cominciano a congelarsi portano le persone a pensare di rimandare 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 a tal punto che se io sono un produttore di qualsiasi tipo di prodotto devo in qualche modo liberarmi di quei prodotti se ne ho tanti in cascina e quindi tenderò a vendere a prezzi sempre più bassi sempre più bassi e io acquirente dirò però io non lo compro adesso perché magari tra 20 giorni ci saranno prezzi ancora più bassi allora tra deflazione, stagflazione e inflazione è meglio l'inflazione se proprio dovessimo scegliere qualcuno Mattia Notari prima o poi finirà la salita dei prezzi ma si stabilizzeranno a prezzi molto più alti del periodo precedente alla stampa monetaria 2021 Mattia ha colpito bene nel segno perché il punto fondamentale che sembra qua che noi ci stiamo dimenticando è che quando l'inflazione fa salire i prezzi a un certo livello è difficile che poi scendano cioè a parte forse l'energia che potremo avere una flessibilità anche in discesa una volta che i prezzi sono saliti noi ci abituiamo a quell'aumento dei prezzi e se i salari non sono aumentati altrettanto quindi abbiamo perso potere d'acquisto e questo è un grande problema e ci ha perfettamente ragione Mattia intanto 4,99 ce lo portiamo a casa un grande contributo che ringrazio Mattia per la sua generosità e andiamo a concludere che abbiamo fatto veramente tardi oggi e quindi lo scenario più intelligente secondo te da tenere oggi sui mercati qual è Leopoldo? Allora innanzitutto in questo momento ci sono delle finestre di acquisto molto importanti l'ho detto nel mercato obbligazionario anche nel mercato azionario però il concetto è questo la diversificazione tu lo sai è la madre di tutte le virtù non scegliete singoli titoli perché è veramente complicato e abbiamo visto quello che sta succedendo anche a titoli consolidati come Netflix abbiamo visto i crolli di Apple e di Amazon nei giorni scorsi quindi ci sono delle oscillazioni molto forti anche su quei titoli che poi hanno trainato il mercato però se noi pensiamo che dietro queste aziende dietro tante aziende ci sono prodotti ci sono idee c'è voglia di ripresa noi lo raccontavamo te lo ricordi nel 2008 che prima o poi pensavamo che arrivasse in studio da noi anche il gabibbo perché eravamo gli unici nel momento in cui sembrava che il mondo stesse fallendo a raccontare qualcosa di positivo io proprio l'altro giorno poi lo utilizzerò in uno dei nostri articoli tra domani e dopo domani ho ritrovato Nicola le pagine di alcuni inserti del giornale del foglio del Sole 24 ore proprio di quelle ore di quei giorni e c'è una bellissima intervista ad un signore che tutti conosceranno almeno tanti conoscono che si chiama Warren Buffett che diceva una cosa in quei giorni non bisogna preoccupare adesso non preoccupiamoci troppo di scoprire la causa di quello che è successo cominciamo ad agire perché se noi non agiamo perdiamo più tempo e Warren Buffett in quel periodo comprò azioni di Goldman Sachs azioni di Wachowia azioni di Mars e su quella roba ha fatto un sacco di soldi poi perché quella roba è cresciuta io ho nei tanti eventi e i tanti interventi che faccio un po' in giro per l'Italia su queste argomentazioni qui ho scelto un titolo il titolo è se domani non dovesse finire il mondo perché? perché noi abbiamo veramente tanta paura in questo momento siamo terrorizzati da quello che sta succedendo però attenzione perché se il mondo non dovesse finire come ci auguriamo tutti quanti per colpa di quattro matti io ritengo che poi se non affrontiamo i temi che stiamo di cui stiamo ragionando oggi Nicola quindi l'inflazione l'accantonamento previdenziale e così via ci ritroveremo con delle situazioni veramente veramente molto complicate perché poi ti do un dato se tu prendessi 100.000 euro di un americano prendiamo in euro e 100.000 euro di un italiano nel 2010 ok? e li vai a valutare oggi i 100.000 euro dell'americano sono diventati 218.000 quelli dell'italiano sono diventati 130.000 cioè un signore americano ha preso 118.000 euro di interessi un signore italiano ha preso 32.000 euro di interessi attenzione in queste due valorizzazioni ci sono anche i nuovi risparmi accantonati e sappiamo che gli italiani risparmiano un po' di più degli americani quindi la crescita è stata veramente misera per quanto riguarda i patrimoni degli italiani che ricordiamo dal punto di vista liquido sfiorano i 5.000 miliardi però questo da che cosa è stato deputato dal fatto che gli americani mediamente in questi 12 anni hanno avuto il 12% di liquidità cioè su 100.000 euro buona parte li hanno investiti sui mercati e 12 li hanno lasciati sui conti correnti ecco noi mediamente siamo stati intorno fra titoli e brevissima durata e conti correnti intorno al 40% questa è un'anomalia dettata dalla sfiducia nei confronti dei sistemi finanziari dalla scarsa attenzione io dico che l'educazione finanziaria non spetta al risparmiatore spetta alle strutture finanziarie che dovrebbero in qualche modo assisterli io se ho un problema di sanità non vado a leggermi l'enciclopedia medica o a fare ricerche su internet vado da un dottore che poi mi rende competente su quell'argomento nessuno ci dice ci fanno 10.000 ricerche sull'educazione finanziaria ma le facessero sull'educazione medica sull'educazione notarile su quella legale perché non le fanno? perché in questo settore probabilmente non hanno lo stesso appeal che c'è nel settore nel settore finanziario ecco io credo che abbiamo bisogno di assistenza Nick e di preparazione va bene amici Eleonora Valentina Emanuela Raffaella della Corte Eleonora Zucchini nessun blocco soprattutto sui prezzi Rita eccola qua grazie Leopoldo grazie a tutti voi per averci seguito noi ci vediamo domani con la zuppa la mattina e con tutte le notizie economiche ti dico cosa che dobbiamo portare qui a proposito di materie prime anzi te lo consiglio anche per quanto riguarda Quarta Repubblica c'è una signorina in Italia anzi una signora perché ha anche due bambini che lavora all'interno del laboratorio del Gran Sasso si chiama Marica Branchesi questa donna insieme a tutto il pool ha reso pratica la teoria della relatività di Einstein che sembra una fesseria ma viaggia attraverso lo studio delle onde gravitazionali dell'universo e attraverso questo studio che è partito qualche anno fa dove avevano registrato la prima oggi ne registrano tantissime di onde gravitazionali Nicola questi studiosi hanno la possibilità di capire come si formano i pianeti come si formano i minerali quindi come si formano molte di quelle materie prime di cui stiamo parlando ecco se tu parli con questa ragazza che dovrebbe essere portata in tutti i telegiornali invece di tanta gente che non dice cose interessanti sicuramente abbiamo uno sguardo una visione del futuro che ci aiuta a vivere meglio il futuro e quindi sicuramente grazie Giuseppe Bianco grazie Giuseppe Bianco mitico il mio dentista quindi io lo saluto sempre con gli affetti che si debbono senti ma lo sai che non c'è più il materiale per i denti? ma veramente? teresi anche questa roba qui ma tutto all'interno porca miseria grande ciao ciao buona serata a tutti ciao 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 ciao